Top and flop dei dati Outel di ieri, giovedì 14 novembre. Al top mettiamo Raffaella Carrà che con il suo A raccontare e comincia tu su Re 3, ieri aveva ospite Luciana Litizzetto, è stato il terzo programma più visto della serata. Dietro a Un passo dal cielo, la fiction di Rai 1 che ha chiuso con l'ultima puntata, starà vincendo e Adriano con la parte live di Adriano Celentano che aveva ospiti, Maria De Filippi e Gianni Moraglia al secondo posto. Quindi davvero un ottimo risultato per Raffaella Carrà, quasi 2 milioni di spettatori e la terza posizione. Per noi al top. Flop invece per Re 2 perché con il film di Avengers, film cult per le giovani generazioni, in realtà non è riuscito a intercettare pubblico. Con questa dimostrazione che forse la generazione Z non guarda la TV generalista. Quindi è stato il canale, è stato il settimo, l'ultimo tra le generaliste, in classifica tallonato dalla PTV da Sky 1 che aveva il live di X Factor. Quindi per noi al flop Rai 2 con The Avengers. Vi ricordiamo che tutti i dati audit, le analisi e le curve degli ascolti di TV di ieri sera le trovate sul sito tvzoom.it. Noi ci rivediamo lunedì.